A da poco festeggiato i suoi dieci anni di attività con un grande evento fatto di artisti che si sono prodigati per la causa. Capitanati dal suo testimone all'attore Alessandro Preziosi, la Dricesta Ollus, associazione Donazione e Ricerca Italiana Cellule Staminali, Trapianto e Assistenza, è stata istituita a Pescara allo scopo di svolgere opera di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza alla donazione di cellule staminali, offrire attrezzature e fondi per migliorare i servizi ospedalieri rivolti particolarmente al neonato, al bambino e all'adolescente e promuovere iniziative atte a potenziare lo sviluppo della ricerca scientifica. Tutto questo all'interno del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara, un lungo percorso che ha già raggiunto importanti traguardi. Cerchiamo di migliorare la degenza ospedaliera sia nei servizi ma anche con altri progetti che riguardano l'assistenza psicologica. Inaugureremo a breve in due reparti il progetto di musicoterapia con il Conservatorio di Pescara che è il primo in Italia ad essere attivato nell'ospedale da un conservatorio perché il Conservatorio di Pescara è il primo che ha attivato il corso di laurea in musicoterapia. Quindi questi bambini saranno seguiti da psicologi e da musicoterapeuti perché sono sempre tutorati da psicologi e da professori del Conservatorio. In più abbiamo comunque attrezzato ambulatori, donato carrelli per la medicazione, non dimentichiamo anche un altro ottimo e avanzato strumento, il Paco, regalato proprio qui con delle sondini molto più piccole, molto più aggiornato. Siamo stati il primo ospedale ad avere questo macchinario proprio per l'esplorazione anche della vescica nei bambini più piccoli. C'erano delle sonde molto più grandi, era un macchinario vecchio e noi abbiamo regalato questo macchinario di circa 30.000 euro qualche anno fa. Abbiamo regalato nell'unità di fisiopatologia respiratoria pediatrica un altro macchinario, il secondo ospedale in Italia ad averlo, proprio per monitorare l'espirato del bambino asmatico. Abbiamo regalato anche delle aero che sono delle apparecchiature che la mamma può portare a casa per monitorare 24 ore o 48 ore a seconda delle indicazioni del medico, l'espirato del bambino e la temperatura, per poi riportarlo e scaricare i dati su quest'altra apparecchiatura che abbiamo sempre donato e poi valutare anche le terapie e controllare anche il follow up sicuramente del bambino malato. In questo caso siamo il terzo ospedale, abbiamo attivato lo screening neonatale di Flessorosso insieme al dottor Marullo dell'oculistica, primario di oculistica. Quindi questo screening neonatale, il riflessorosso viene fatto al bambino prima della sua dimissione dall'ospedale, quindi in tre giorni quando il bambino rimane qui e siamo il quarto ospedale a farlo, quindi la seconda associazione in Italia che supporta questo progetto. In più abbiamo anche attivato l'ambulatorio ferite difficili e anche oncoplastica e sappiamo che anche dei bambini con grandi ustioni accedono a questo ambulatorio, quindi le ulcere cutanee non solo per i piedi di abelico e per gli adulti, ma anche alcuni bambini accedono a questo ambulatorio dove noi forniamo un dermatologo specializzato, un'infermiera, la stessa cosa con un chirurgo plastico e un'infermiera in altri tre giorni nell'altro ambulatorio di oncoplastica. Abbiamo attivato, non li ricordo più, sono tanti, io so solo che dobbiamo lavorare per raccogliere tanti fondi perché ogni anno abbiamo veramente tanti tanti fondi, adesso vorremmo riportare un medico dentro un servizio che non dirò, lo comunicheremo più avanti, ma ecco ce ne sono tanti e tanti ce ne saranno, sia per i bambini che per qualcosa anche per gli adulti, ma soprattutto i bambini sono comunque il primo obiettivo che noi vorremmo sempre centrale, quello di far star meglio il bambino ospedalizzato di tutti i reparti. Che lo scopo sia quello di migliorare la vita dei piccoli pazienti creando un mondo a portata di bambino si capisce già dai corridoi del reparto. Ci sono colori e disegni a rallegrare le pareti, ma questo non basta, esistono ancora traguardi da raggiungere, così come spiega anche il primario del reparto, un uomo di scienza che conosce l'importanza dell'aspetto umano, oltre ai corridoi, oltre ai protocolli. C'è molto da fare e si può fare grazie all'aiuto di tanti valorosi volontari e benefattori, perché non si può restare impassibili davanti a un lettino che esce da una camera operatoria. Bastano gli occhi di un genitore a spiegare ansie, paure, smarrimento e dolore. Si può fare molto per aiutarli a superare quei momenti. Noi cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre competenze, nelle nostre capacità per dare un servizio a questi bimbi e ovviamente di rimando ai loro genitori di qualità. Pensiamo di esserci riusciti nel corso del tempo e pensiamo anche di essere abbastanza al passo con i tempi per quello che riguarda le apparecchiature. Quindi siamo abbastanza up to date. Quello dove eravamo piuttosto carenti ancora non era neanche l'umanizzazione, perché abbiamo del personale infermieristico dedicato all'infanzia, quindi sicuramente abbiamo la scuola in ospedale, abbiamo la clown terapia, abbiamo la saletta preoperatoria in cui i bambini e i genitori risiedono subito prima di andare in sala. Quindi da certi punti di vista siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Abbiamo anche un servizio di psicologa durante la settimana. Quello dove non ce la facevamo con le nostre sole forze era proprio l'arredo, il rinnovo completo dell'arredo del reparto di chirurgia pediatrica, cioè essere al passo coi tempi e al meglio del meglio, perché onestamente stiamo parlando di questo, al meglio del meglio per l'arredo. Quindi un arredo che fosse da un punto di vista di possibilità di accreditamento della struttura, ovviamente con tutti i crismi e tutti i permessi e tutte le innovazioni tecnologiche e di sicurezza degli ultimi anni. E al tempo stesso che ogni mamma potesse stare vicino al suo bimbo con una poltrona a letto che sia più che adeguata, i letti che siano moderni e che quindi se uno deve sollevare il torace del bimbo non serve il cuscino, ma ci sia la possibilità e il più possibile comoda per farli risiedere un pochettino come a casa loro. Questo è stato quello che Carla ha voluto fortemente con questa personalizzazione anche delle stanze, che poi ricorderanno ciascuna stanza o una persona a gara mancata o il bambino che non ce l'ha fatta, oppure qualcuno che ha solidarizzato pesantemente, come può essere questi chef, come può essere l'autore, il signor Del Castello, che ha scritto questo bellissimo libro. Cioè questa è una gara di solidarietà che va avanti, ovviamente non da oggi, ma sono più di due anni che l'Adricesta, ovviamente con la nostra presenza, i nostri ringraziamenti ogni volta porta avanti. E questo progetto finalmente adesso penso si realizzerà, ma nel senso dei prossimi due o tre mesi potremo inaugurare l'arredo nuovo del reparto. Anche nei paesi più evoluti, io faccio sempre l'esempio della Scandinavia, la solidarietà, le associazioni di volontariato, più sono forti più il paese è evoluto. Quindi non è che perché c'è un servizio sanitario che non fa fronte, ma perché il servizio sanitario nazionale si deve occupare di certe cose. E probabilmente quel di più che comunque può fare la differenza, almeno a livello di umanizzazione, è forse anche giusto che il volontariato faccia la sua parte, anche moderno, non è antico come concetto. Se le iniziative non mancano e non sono mancate negli anni oggi, a scendere in campo sono talenti abruzzesi stellati, chef acclamati delle guide gastronomiche più importanti d'Europa. Sono cinque e non ci hanno pensato due volte a dire sì. Nico Romito, tre stelle Michelin con il suo Reale di Castel di Sangro. Marcello Spadone, una stella Michelin con la bandiera di Civitella Casanova. Nicola Fossaceca, una stella Michelin al metrò di San Salvo. Peppino Tinari, una stella Michelin con la sua villa. Maiella di Guardia Grele ancora. William Zomfa, una stella Michelin con la sua magione. Papale all'Aquila sono pronti a deliziare il palato per una grande raccolta fondi. Sicuramente alla base di tutto c'è la volontà di far del bene, far del bene come attraverso anche noi che siamo dei mezzi per la riuscita e sicuramente noi abbiamo forte passione, forte voglia di fare questo lavoro e ritrovarci in una serata così importante, essere anche noi protagonisti o perlomeno dare il nostro contributo, ma lavorare tutti assieme e insomma in questo contesto è così importante e farlo con la gioia appunto di condividere tutti insieme appunto, noi cinque, questo bellissimo impegno, questa bellissima manifestazione. Se si dovesse scegliere un piatto oppure un ingrediente, qual è la prima cosa che viene in mente a uno chef stellato? Parlando di bambini, di solidarietà? Sicuramente il gioco, comunque la base è tutto il discorso riguardante le proprie appunto, la qualità, insomma il territorio e tutto, però il gioco o perlomeno anche la leggerezza o il dare emozione, il coinvolgere in un certo senso, quindi vai a cercare l'ingrediente appunto tra questi elementi, comunque cerchi di dare emozione, far star bene le persone che siano adulti o che siano bambini, insomma tutti. Qual è l'obiettivo che si prefigge uno chef stellato? Cosa vuole dare a tavola? Qual è l'emozione che lo rappresenta nel livello più alto? Sicuramente dare riflessione, dare degli input, far ragionare, dare profondità a tutto il discorso che c'è dietro un semplice pranzo, una semplice cena, quindi c'è un'aspettativa alta da parte del commensale che ti viene a trovare con, insomma, crede, vuole, ed è giusto che abbia degli standard molto alti e sicuramente ci deve essere un percorso che è all'altezza di questo, ma ci deve essere anche poi la parte successiva, ovvero il segno che lasci, che ovviamente ci si augura sia positivo e che deve rimanere, insomma, impresso per comunque costruire un qualcosa che può essere anche un rapporto successivo oppure, insomma, un riferimento eventualmente. Quando si pensa ai bambini a un mondo a loro misura si pensa alla magia delle fiabe e così a scendere in campo è anche uno scrittore che ha raccontato la favola del profumo della neve antica e ha deciso di mettere a disposizione del ladricesta mille copie. Eccone un estratto recitato dalla voce del suo più grande sostenitore, Alessandro Preziosi. Il luogo era simile a quelli delle loro montagne, dove nascevano le pusettille alpine. Ai margini del cucchiaio di pietra c'erano alcune rocce a strapiongo che al contatto con il terreno mostravano diverse fessure adatte a trovarvi riparo durante il soggiorno. Prima di partire gli ignomi avevano fatto rifornimento di latte e mirtilli sufficienti per il viaggio e per tutto il periodo di permanenza in quota. Questo libro, o meglio, questa sottile e gentile fiaba dal titolo Il profumo della neve antica scritta da Ugo del Castello, che è un racconto di ignomi, magie, di un fiore ad alta quota, è l'occasione, o meglio, il pretesto per raccontare un'altra piccola storia, quella di Ugo, appunto, che dona mille copie di questo libro all'Associazione Adricesta per aiutare i bambini malati. Chi salva un bambino salva il mondo intero, non è una frase fatta, è una frase che dà senso alla vita. Grazie. Quando ho incominciato a scrivere questo libro ho avuto l'idea, la felice idea di destinarne il ricavato per aiutare i bambini malati. Poi attraverso una serie di conoscenze sono arrivato a questa associazione, l'ho individuata e quindi ho pensato immediatamente e conseguentemente di donare a loro mille copie di questo libro. Innanzitutto ci ho creduto io e quindi ho avuto la forza di coinvolgere una serie di soggetti per arrivare a completare questo progetto. in primis la Banca di Credito Cooperativo di Roma che mi ha consentito di stampare il libro e quindi con un contributo direttamente all'Associazione. Poi conosco molto bene lo chef Nico Romito, è una persona squisita, mi ha sorpreso perché non immaginavo che si rendesse non solo disponibile lui ma che riuscisse a coinvolgere gli altri quattro chef stellati d'Abruzzo per cui è venuto fuori un sogno quasi impensabile ma realizzato. Dalla penna di uno scrittore è una parola che definisca una sensazione ed è quella rivolta ai bambini che si trovano in difficoltà. Io sono venuto in questo ospedale a trovare un amico che era ricoverato nel reparto di ematologia, sono passato davanti ad alcune camerette dove dentro c'erano i bambini e lì la sensazione è notevole ma nello stesso tempo mi ha consentito ancora di dare più forza a questo progetto e quindi di cercare di dare, non so adesso quali sono i programmi precisi e puntuali dell'Associazione ma sono certo e sono sicuro che forse un sorriso glielo daremo e magari glielo daremo anche forse leggendo il libro. E infine tutto il carisma e la determinazione della persona che un giorno ha deciso di creare una realtà così forte e pronta a combattere per migliorare le cose perché salvare un bambino significa salvare il mondo. Il nostro nuovo slogan, quello che abbiamo detto, è proprio coniato da Alessandro Preziosi e chi salva un bambino salva il mondo intero. Noi usiamo anche il vecchio slogan di 11 anni fa che è miglioriamoci. Abbiamo cercato di migliorarci nel più, nel limite del possibile ma anche di fare una campagna di sensibilizzazione. Nico Romito l'ha accettata, gli altri chef subito hanno aderito e quindi siamo veramente sorpresi, emozionati perché sappiamo che è un appuntamento unico e ripetibile. Noi siamo orgogliosi di questo risultato, io sono orgogliosa delle mie volontarie, orgogliosa di quello che fanno tante volte, di quello che fanno anche i ragazzi perché abbiamo anche dei ragazzi volontari. Sono proprio felicissima di questo perché la ricesta è veramente una parte della mia vita molto importante e i bambini sono una parte della mia vita molto importante. È stata fondata dal mio marito con questo scopo proprio di poter rendere migliore la permanenza dei bambini in ospedale e regalare qualche sogno anche quando stanno male. siamo felici ogni volta di riuscire a raggiungere questo obiettivo.